Disagi da questa sera per 8-9 mila utenti di Perugia per un totale di circa 20 mila abitanti che resteranno senza acqua fino a domani. Tutta colpa di una perdita individuata da Umbra Acque in via Fabretti. Per effettuare i lavori verrà chiuso il serbatoio di Sant'Agnese che approvvigiona una vasta area della città. Le zone interessate sono quelle di Corso Garibaldi, Ponterio, via Fabretti, via Pinturicchio, Portapesa, Monteluce, via 20 Settembre, via della Cupa e gran parte del centro storico. Il flusso idrico verrà interrotto alle 20 di questa sera e l'acqua mancherà completamente nel corso della notte. Già domani mattinata la situazione tornerà gradualmente alla normalità.